Spesso mi vengono poste delle domande, tipo, sulla pensione di reversibilità, tanti sono convinti che spetta solo alla moglie. Invece, per fortuna, non è così. Ci sono diverse categorie di beneficiari della pensione di reversibilità. In primo luogo il coniuge, poi i figli minorenni, poi i figli maggiorenni fino al ventiseesimo anno di età, se frequentano un studio universitario, i figli inabili e in alcuni casi anche i genitori, le sorelle, i fratelli e anche i nipoti. Giuridicamente distinguiamo di due tipi di pensione ai superstiti. La pensione indiretta, se la persona deceduta non era ancora in pensione, e la pensione di reversibilità, se aveva già una pensione. Se la persona non era ancora in pensione, deve però, almeno, aver maturato un certo numero di anni di anzianità. Il mio nome è Michael Riga, responsabile del patronato Enasco nell'Unione. Il nostro patronato è a disposizione per la consulenza di tutti questi temi previdenziali.